Oggi ci sono delle importanti novità per i precari in servizio all'Asp, quali? Allora, noi abbiamo, oggi completiamo un percorso che era iniziato già l'anno precedente, nel 2016, quando abbiamo adottato nel mese di dicembre del 2016, il 7 dicembre con l'esattezza, il provvedimento deliberativo che ha consentito a 240 persone di poter essere, di poter continuare a lavorare nelle nostre aziende, di poter essere prorogati fino al 31 dicembre del 2018. Questo percorso chiaramente è un percorso che noi abbiamo già, sin da allora, individuato come iniziale rispetto a quello che nel 2017 e nel 2018 dovrà avvenire. Nel 2017 il bando per la stabilizzazione per le categorie A e B, nel 2017, fine, penso, 2017, inizio del 2018, il bando per stabilizzare gli altri lavoratori appartenenti alle categorie C e D, ma quest'ultimo passaggio necessita di una autorizzazione assessoriale. L'altro impegno che noi ci eravamo assunte e che oggi si concretizza con l'adozione di un provvedimento deliberativo è quello della integrazione oraria. L'integrazione oraria che non è un'integrazione fine a se stessa, è un'integrazione che consentirà principalmente all'azienda e anche ai lavoratori di dare un maggiore supporto a quelle che sono tutte le azioni prevalentemente di carattere amministrativo, perché in questa integrazione ci rientra pure personale del ruolo tecnico e ausiliario, e soprattutto in quegli uffici che si è registrata una notevole carenza di personale dovuta ai pensionamenti registratisi negli ultimi anni e in particolare alla impossibilità da parte dell'azienda di poter procedere a delle assunzioni tramite concorsi o anche con incarica a tempo determinato per il ruolo amministrativo. A quanto verrà aumentato il Monte Ore? Quindi aumenterà anche lo stipendio? Sì, il Monte Ore per la grande maggioranza dei lavoratori sono, se non ricordo male, 170, aumenterà da 24 a 36 ore e conseguentemente aumenterà anche il trattamento economico retributivo per le residue ore che saranno chiaramente oggetto di integrazione.